Ok, proseguiamo con la lettera S, devo fare per forza due video al giorno perché se no non riesco a finire prima di lunedì, intanto saluto anche quelli però che non sono i miei alunni, perché io mi rivolgo sempre ai miei alunni, vabbè io in mente loro, però ci sono alcuni, non tanti, ma alcuni che seguono i miei video che non sono dei miei alunni, per cui saluto anche loro e sono contenta perché probabilmente gente che per caso finisce sui miei video perché non può essere altrimenti, se poi si iscrive al canale YouTube è perché gli sono piaciuti, quindi sono contenta, andiamo avanti perché se no passa troppo tempo, S lettera S, partiamo con spossato, e qua vedete questo più è più spossato di così proprio non si può, infiacchito, indebolito, stanco morto, che ha perso vigore, ecco adesso parlo dei miei alunni perché loro sono spossati già alla fine della prima ora, figuratevi alla quinta cosa succede, va bene, allora salassare invece è un verbo, ma noi usiamo più il termine salasso, è stato un salasso in modo poi non letterale, però salassare vuol dire togliere il sangue a scopo terapeutico, però noi magari diciamo salassare nel senso di spillare soldi, questo acquisto è stato un salasso, vuol dire che è costato una caterba di soldi, qui c'è quest'immagine che non è che sia il massimo della vita, però ragazzi si faceva così, periodo medievale quando si credeva, ahimè, che le malattie fossero dovute all'umidità, e quindi quando qualunque malattia c'era praticamente la cura era il salasso, cioè togliere il sangue dal corpo perché si ricostituisse nuovo, perché l'idea era un po' quella che la malattia fosse nel sangue, quindi quando già uno era malato, aveva magari 39 di febbre, poi facevano un bel salasso e questo moriva immediatamente, allora tra l'altro questa sciura, che voi direte, beh che schifo cosa sta facendo, queste sono sanguissughe, quindi questa sciura era anche ricca, perché ragazzi i ricchi potevano permettersi di andare in farmacia, tra virgolette farmacia di allora, a comprare le sanguissughe, no? Se le mettevano sul corpo, generalmente braccia e gambe, e si facevano ciucciare il sangue. I poveri cristi invece andavano di tagli e facevano dei tagli, per cui ripeto, già uno stava male di suo, in più tagli, in più perdeva il sangue e buonanotte questi erano morti bene o male il giorno dopo. Va bene, andiamo avanti. Scisma invece, anche questo l'ho messo perché è un altro termine che si usa tantissimo, in storia. Scisma vuol dire distacco. Allora, scusate, scusate, ma mi sono interrotto un attimo perché mi è suonato il telefono, sono dovuta andare a rispondere. Eravamo a scisma, scisma, dicevo, si usa in storia. Allora, scisma vuol dire scissione, spaccatura, no? Fra due gruppi, generalmente di fedeli, perché si usa il termine scisma soprattutto in campo religioso. E l'ho messo perché in storia, quando si studia la storia della seconda, c'è il termine scisma anche della prima, con lo scisma d'Oriente, lo scisma d'Occidente, con la spaccatura tra i cristiani cattolici e quelli ortodossi, poi i due papi e via dicendo. Adesso non stiamo a fare tutta la storia, però scisma vuol dire spaccatura. Andiamo avanti con sarcasmo. Fare del sarcasmo vuol dire fare dell'ironia, però l'ironia, diciamo, è positiva, fa anche un po' ridere. Invece il sarcasmo è umiliante, cioè è un'ironia amara, vedete, dettata dall'intento di ferire o umiliare. Se, non so, io dovessi prendere in giro, sempre, i miei alunni, perché prendono un voto brutto, ma faccio delle battute cattive, no? Sul fatto che magari hanno preso quattro, faccio un sarcasmo, ma che potrei benissimo evitare, perché è una cosa brutta a dire. Questo l'ho trovato su internet, veramente, cioè, non lo so, si è spento il giovane ustionato, capite che spegnersi in questo caso vuol dire morire, e io non vado a scrivere un titolo di questo, è un sarcasmo, veramente. Tra l'altro non si vede il pezzo sotto, ma c'era scritto, qualcuno aveva postato un riposa in braccio, e lasciamo perdere. Va bene, andiamo avanti. Questa parola, magari, non l'avete sentita spesso, però guardate che si usa stacanovista. Voi non l'avete sentita spesso, perché voi non siete dei grandi stacanovisti, però va bene lo stesso. Allora, chi nel suo lavoro dimostra zelo, ha sinità fuori dal comune, cioè lo stacanovista è quello che lavora tantissime ore al giorno, pur di raggiungere l'obiettivo che si è prefissato, è quello che, non so, è iscritto all'università, fa un esame universitario al mese, studia come un pazzo, non va mai in vacanza, per raggiungere appunto gli obiettivi che si è prefissato. Viene da Stacanov, che era questo qua, almeno spero di aver preso l'immagine giusta, quindi internet, che era appunto un russo, che durante il periodo della rivoluzione russa e poi di Stalin, quando venivano premiati appunto quelli che dimostravano, gli operai che dimostravano di lavorare tanto per la patria, ecco lui era il non plus ultra, diciamo, per cui dal suo nome proprio è venuto fuori questo termine qua. Andiamo avanti. Sopire, calmare, lenire, mitigare, ok? È stato sopito, vuol dire che è stato fatto magari addormentare, è stato calmato e via dicendo. Smilzo invece, andiamo un po' più veloci perché mi sto dilungando, smilzo è questo qui o questo qui, questo è pingue, l'abbiamo visto l'altro giorno con la P, smilzo è questo qua, magro, snello e un po' come me, diciamo, ok? Magra e snella, va bene, andiamo avanti, più o meno. Sagace, sagace è accorto, uno per spicace, acuto nell'intendere e valutare una situazione, vuol dire che è quello che ci arriva subito, è quello che capisce subito la battuta. Io alle volte faccio delle battute in classe e vedi un gruppetto che ride, che la capisce, che ha colto, no? E l'altro che è lì che mi guarda e mi dice ma cosa sta dicendo? Ecco, vabbè, magari perché alcuni non sono abbastanza sagaci da cogliere all'istante la situazione. Andiamo avanti, siamo alla fine? No, siamo a sterrato, che è questa, viene dalla parola terra, vedete? È un suolo non lastricato, non asfaltato, quando c'è una strada con la terra e i sassi, quella è una strada sterrata. Ok, allora concludiamo con questo termine perché l'avevo preannunciato quando abbiamo fatto con la O, olocausto, perché ho detto che spesso e volentieri olocausto e shoah si confondono, ma il termine giusto per indicare quella cosa bruttissima che si vede qua con questa immagine è shoah, il termine ebraico appunto con il quale si indica lo sterminio del popolo ebraico durante la seconda guerra mondiale, un vero e proprio genocidio. Purtroppo non è stato l'unico della storia, ce ne sono stati altri naturalmente, perché purtroppo la storia non insegna e quindi noi esseri umani ricadiamo negli errori fatti del passato, genocidio abbiamo detto che è lo sterminio proprio di una popolazione per motivi etnici o religiosi, però shoah è proprio il termine ebraico che indica lo sterminio degli ebrei, qui ho voluto mettere i bimbi perché secondo me in quella cosa brutta che è stata la shoah, che è stata brutta per chiunque l'ha vissuta di sicuro, i bambini devono essere stati quelli che hanno sofferto più di tutti, per cui ho messo questa immagine e con questa immagine vi saluto.